entrino le ombre come sempre anzi fine la tua voce sarà nuovamente su youtube come ti fa sentire tutto ciò pini grazie per essere importante sono in mutande e basta non ho altro da dire per il momento mastiff ed emlok è armatura viola quindi ci saranno tanti nemici dovete capire che la morte watson è schiattata revenant giustamente non c'è ma c'è su youtube l'altra registrazione non è ancora no non ho ancora avuto tempo di caricarla perché sono uno schifo di dio e arrivo in ritardo ecco si 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 il motivo è stato per me ha già qua la trivella perché siamo ora cosa sta succedendo cosa dobbiamo fare le abilità permettono di sfondare le porte all'applicato è ok e quindi dobbiamo entrare in ste case io mi sto prendendo schiaffi quanti ce ne sono siamo matti ah ma dobbiamo rompere i totem non l'avevo capito ok uno rotto qua uno rotto qui ah ma hanno proprio rotto questi qua non l'avevo capito si no neanche io ah tra l'altro siamo cosa sono confuso ma non c'era qua un totem l'ho saltato ero convinto ce ne fosse uno qua ma l'ho rotto io e me ne manca uno ancora ok perfetto non ho capito cosa sia successo ma va benissimo così rotti io non vi preoccupate no no ci sta io sono entrato in una casa convinto ce ne fosse uno ma non c'era convergo verso di voi effettivamente potevo leggere le missioni vabbè prendiamo un po di cure anche se oddio non so voi ma non mi è capitato così spesso di dovermi curare no ma a parte va bene perché sto aspettando la tua ulti io grazie filippo mi hai salvato la vita prego e me eh sì ci ho pensato troppo la svolta bella metto la trivella intanto copritemi un attimo era qua al centro avete già conosciuto le mie inquietanti bestiole ok iniziano ad arrivare i nemici sono qua ma se tu arrivi e chiudi le porte come funziona le sfondano ah ok e se le chiudiamo tutte tranne una sono stupidi da fare il giro eh arrivano troppi pochi però non è divertente è troppo facile sì concordo qua sfondano da dietro eh all'aria si è anche chiusa tra l'altro l'artefatto non c'era una barra di è finito no 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 sta ancora andando non so cosa stia aspettando esattamente ok sta per finire sto facendo spawn kill mi sento quasi in colpa ok preso per dire come abbiamo suono diverso in singolo in block dovresti provare a prendere tre suoni singoli e metterli uno vicino all'altro dobbiamo andare sì sto invocando la forza della natura giusto perché ti voglio superare Phil non si prende mai che belli che si arrampicano a bordo volevo mettere il fuoco tanto per fa molta atmosfera comunque sono tutti uguali che noia sì sostanzialmente sì grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.